L'Unicef dà l'appuntamento oggi e domani per partecipare all'iniziativa 100% Vacciniamoli Tutti, una campagna globale per raccogliere fondi per finanziare le vaccinazioni pediatriche. Migliori di bambini ogni anno muoiono e rimangono permanentemente invalidi a causa di malattie. Prevenire è possibile, basterebbe un semplice vaccino. I volontari dell'Unicef e di tutta Italia invitano a sostenere questa campagna. A Catania saranno in piazza il 24 e il 25 maggio. Domenica 25 maggio saranno presenti dalle 9 alle 13 presso Piazza Verga. Partecipare è semplice, basterà infatti contribuire con un'offerta minima di 5 euro e ricevere in cambio un grazioso campanellino, simbolo della campagna per ricordare che ogni bambino che muore è un campanello d'allarme. Vogliamo raggiungere uno straordinario obiettivo che è quello di vaccinare tutti i bambini del mondo contro quelle malattie che sono facilmente prevenibili e curabili, come la difetteride, il morbillo ed altre malattie che purtroppo nel mondo mietono un milione e mezzo di bambini ogni anno, con una media quindi di un bambino ogni 20 secondi. Ed è una cosa terribile e siccome sappiamo che questo obiettivo è raggiungibile, ce la stiamo mettendo tutta. Abbiamo come simbolo un campanellino, un campanellino che vuole simboleggiare il campanello d'allarme che noi vogliamo ricordare a tutti di far suonare ogni 20 secondi, perché ogni 20 secondi un piccolo, un bimbo di età compresa fra 0 e 5 anni purtroppo ci lascia.